Musica Ci tenevo molto appunto che questo cinema fosse pieno di bambini, fosse pieno di famiglia proprio perché è nello spirito del nostro festival, Periferia Animate come dice il nome appunto è un festival che parte da una periferia, proprio con l'idea di portare il cinema dove non c'è Grazie a tutti! Grazie a tutti!